Per Basf, essere da 17 anni nel Dow Jones Sustainability Index è un grande successo perché essere in questo indice internazionale, in un'azienda globale, chimica come la nostra è innanzitutto un primo riconoscimento. Però non vogliamo fare della sostenibilità un qualcosa che sia solo apparente burocratico. L'esempio che presentiamo oggi con il caso di Orto Sole fa vedere come coniugare sostenibilità rispetto dell'ambiente, aumento del fatturato per i nostri clienti e il lavoro trasversale delle nostre business unit sono un risultato tangibile che viene disurato con dati concreti. Aumento della redditività, diminuzione della plastica consumata, miglioramento della ricerca e dei processi produttivi e attenzione al cliente ma soprattutto al modello di business che diventa sempre più green e sostenibile.